Il personale del Comando Forestale di Trebisacce, nell'ambito di un servizio di vigilanza ambientale nei territori dell'Alto Ionio Cosentino, ha sorpreso un uomo mentre si disfaceva delle acque di vegetazione provenienti dall'attività di molitura delle olive di un frantoio locale, riversandole sul suolo all'interno di un bosco di querce nel comune di Oriolo. L'uomo di Trebisacce, operaio del frantoio, con un'autocisterna appositamente allestita e documentazione di accompagnamento del carico, destinato all'utilizzo agronomico mediante espandimento superficiale su terreni agricoli, si è invece disfatto delle acque di vegetazione riversandole all'interno dell'area boscata grazie ad un grosso tubo direttamente collegato alla cisterna contenente i reflui. Le acque di scarto del frantoio sono note per i loro effetti tossici sulle piante altamente inquinanti per il suolo, pertanto il loro utilizzo in agricoltura è regolamentato da rigide norme di carattere tecnico e amministrativo proprio per scongiurare gli effetti tossici che possono causare all'ambiente. Il tempestivo intervento del personale forestale ha interrotto l'attività illecita in atto, il mezzo è stato posto sotto sequestro e l'autore è stato denunciato alla procura della Repubblica di Castrovillari in concorso con il titolare del frantoio.